Si avvicina l'appuntamento con le festività del Santo Patrono di Francavilla a San Franco il 18 agosto. Ci saranno anche i fuochi, Sindaco? Questa è la domanda che tutti si fanno. Questo è il tema. C'è stata questa raccomandazione del Prefetto di Chieti, che secondo me si riferiva a situazioni diverse da quelle di Francavilla, perché noi intendiamo fare i fuochi a mare come nello scorso anno, su tutti e sette i chilometri di costa, sparando proprio dall'acqua, dal mare. Quindi pericolo di incendi non ci sarebbe. Però a scanso di equivoci è stata convocata la commissione per martedì, la commissione prefettizia che si occupa di questi temi, verranno qui a Francavilla. Gli faremo vedere dove abbiamo intenzione di collocare i punti di sparo e io mi auro che ci sarà la condivisione e quindi la possibilità di fare i fuochi a mare. Io, se nessuno me li vieta, li farò i fuochi a mare, perché ci sono rimasti solo quelli, visto che i vari concerti e altre feste per San Franco abbiamo dovuto annullarle. Noi registriamo un pienone, forse è andato addirittura meglio dello scorso anno, le attività commerciali stanno facendo il loro lavoro e sono tutti gli alberghi, i B&B e le case, siamo praticamente sold out. E quindi siamo nel pieno, bene così, frutto del lavoro fatto in quest'ultimo decennio, del quale vado orgoglioso e sono fiero. Francavilla è rinata, ma questi francavillesi lo sanno molto bene. Appena uscito dall'acqua e il bagno di metà mattina come è andato? È andato bene, veramente da stamattina presto sono in acqua, mi guado anche io il nostro mare. Purtroppo abbiamo avuto qualche problema che però in via di risoluzione, anche sulla costa, cose che succedono, una città fortemente antropizzata, in generale però abbiamo un'acqua pulitissima.